E' stato inaugurato a Borgo Cariglia di Altavilla Slintina il Parco Salute Cariglia. La struttura, già esistente, è stata ampliata grazie ad un finanziamento del progetto Sport e Inclusione di circa 30.000 euro, a cui l'amministrazione guidata dal sindaco Franco Cembalo ha avuto accesso. Il Parco Salute Cariglia è stato progettato con l'obiettivo di fornire un luogo accogliente e inclusivo per la pratica sportiva, promuovendo la salute fisica e mentale dei cittadini. La struttura è dotata di moderne attrezzature sportive, percorsi fitness all'aperto e spazi dedicate al relax. Durante la cerimonia di inaugurazione sono state espresse parole di gratitudine verso coloro che hanno reso possibile questo progetto, sottolineando l'importanza della collaborazione e dell'impegno comunitario. In particolare il primo cittadino ha voluto ringraziare sia la comunità montana Calore Salernitano, sia l'associazione sportiva ASD Altavilla Slintina, per aver donato le redi del campetto presente all'interno della struttura. Il Parco Salute Cariglia non è solo uno spazio per l'attività fisica, ma anche un luogo di incontro e socializzazione, favorendo la coesione sociale e l'inclusione attraverso l'amore per lo sport. Sì, questo è un ulteriore passo verso il completamento di questo spazio dedicato alla salute a Borgo Cariglia, ma non è solo di Borgo Cariglia, ma è di tutta la comunità di Altavilla e Slintina. Grazie a un finanziamento di sport e inclusione con oltre 30.000 euro siamo riusciti a mettere dei nuovi giochi e stiamo ampliando, stiamo completando questo parco. Grazie anche a qualche associazione che ha regalato le reti per le porte del piccolo campetto a 5, grazie alla comunità montana che ci ha dato una grossa mano per la realizzazione di questo parco, sia fisicamente sia con i pali che abbiamo messo. Quindi questa è una cosa che è partita da un po' di tempo, ma stiamo riuscendo a finirla. Quindi oggi inauguriamo soprattutto questi nuovi giochi che con questo finanziamento siamo riusciti ad avere. Andiamo sempre avanti mettendo delle panchine, migliorando l'illuminazione e mettendo anche le telecamere a salvaguardia di questi giochi che non vengono danneggiati da qualche bandalo. Nel campo di Altavilla-Silentina è in corso una gara che sarà finita a breve, sono il 28, oggi termineranno e c'è il termine della presentazione delle offerte, faremo un nuovo campo sportivo d'Altavilla-Silentina dove c'è anche una pista di elicotteri per le macchie di emergenza. Quindi è un ulteriore passo anche per Altavilla-Paese avere un campo sportivo degno di tale nome che può essere utilizzato da tutti gli abitanti della nostra comunità. Quindi andiamo avanti per lo sport perché lo sport è salute e benessere e quindi noi ci teniamo a questa cosa soprattutto per i nostri giovani che possano andare avanti sempre distogliendosi di altre cose.